Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Inizio col dire che sul sito istituzionale del Comune di Fagnano-Rona è comparso un avviso esplorativo per le sponsorizzazioni agli eventi culturali del Comune. Chi fosse interessato vada a leggere l'avviso e c'è il modo per partecipare e sponsorizzare agli eventi culturali. Secondo avviso che do, ma non lo trovate sul sito del Comune, è quello della ricerca di volontari per il pedibus. Siamo sempre alla ricerca di persone che vogliono accompagnare i nostri bambini nel raggiungere i plessi scolastici di Scuole Salvatore Arru o Scuole Gianni Rodale di Bergoro. Quindi per chi volesse partecipare a questo bellissimo progetto che serve anche a far utilizzare meno le automobili, ce lo dica attraverso gli uffici comunali la volontà di partecipare per il pedibus. Settimana prossima nel video di informazione ci sarà il racconto dettagliato di quello che sarà il programma per la manifestazione del 25 aprile, la festa della liberazione. Gli eventi del fine settimana. Ce n'è uno in particolare che è il Caffè con l'autore ed è sabato 13 aprile alle ore 18 nella sala Camino del Castello Visconteo, sede del Comune di Fagnano. L'autrice è Paola Sbarbada Ferrari e presenta il libro dal titolo L'Oblio nei tuoi occhi. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!